Io volevo solo dire due parole di ringraziamento per questa bellissima cerimonia che avete organizzato per i miei dieci anni di vita in questa bellissima comunità. Aspettavo un po' il sindaco, ma quel va in comodità ci sono, ma al sol dalle 8, le 9 e mezza, per cui cominciamo perché domani ci ho messo. Niente, io ho tanti ricordi di questi dieci anni passati con voi, anche se la prima impressione che ho avuto devo dire che fui terrorizzato. La prima persona che si venne a confessare aveva fatto tutti i peccati di quel mondo e di questo mondo, tutti quanti. Mi ricordo che da piccolo diceva che dava calcio al fratello, poi si era sposato, aveva rubato soldi alla moglie, alla mamma, frodo in azienda, un sacco di guai, spaccio, racket della prostituzione, tutto, che cosa non ha fatto, l'hanno trovato una volta presì nel prato che giocava una pecorrera, che faceva un montaggio alla luce, tutte le cose più brutte. Questa è la prima persona che ho confessato, non vi nascondo che mi volevo scappare. Invece ho resistito e sono contento di averlo fatto perché ho conosciuto tanti bei parrocchiani come voi. Adesso io ho finito e finalmente è arrivato anche il sindaco, un caloroso applauso. Buonasera a tutti, buonasera, grazie. Chiedo scusa per il ritardo, ma impegni istituzionali mi hanno coinvolto fino a questo momento. Non potevo mancare alla festa di dieci anni, dieci anni da quando Don Franco è qui con noi in questa parrocchia. Un ottimo lavoro quello che ha svolto il nostro Don Franco. Troppo buono. E vi dirò di più, vi dirò di più, io, forse nessuno lo sa, ecco, nessuno lo sa, e ho avuto l'onore, l'onore di essere il primo a confessarmi da Don Franco. Che cosa ho detto, scusate? Che è successo?